Abbiamo fatto un incontro con la dottoressa Federica Franchi su Bitcoin e criptovalute. Abbiamo parlato del Bitcoin come valuta ma anche come mezzo di pagamento e dell'influenza che ha la tecnologia della blockchain sugli aspetti non solo economici ma anche sociali e di come questa cambierà il nostro modo di vivere quotidiano. Semplicemente questa è stata una presentazione per far comprendere un po' meglio che questa è una tecnologia che bisogna cercare di comprendere sempre di più, di studiare e soprattutto di dirimere quelle che sono le leggende metropolitane e i falsi miti con quella che è la realtà ovviamente cercando di comprendere a fondo questo fenomeno che investirà tutte le nostre vite e prima lo comprendiamo meglio è.